Tempo fa facevo uno spettacolo a teatro e dovevo mettere i posti a sedere seguendo le regole Covid. Facilissimo, direte voi, no? Uno sì, uno no, uno sì, uno no. No. Perché? Perché ci sono le coppiette, ci sono le famiglie che a quanto pare non possono stare separate. E questo mi fa venire in mente una domanda che mi ero fatto molti anni prima del Covid. Cioè, perché le famiglie, le coppiette a teatro devono stare vicine? Qualcuno di voi sa spiegarmelo? Che dovete fare? Dovete parlare? Dovete trombarvi la vicina durante il buio? Io non lo capisco. Anche da ragazzo, mi ricordo, andavo a prendere i biglietti per mia zia, mia mamma, eccetera, e ogni volta la domanda era, hai preso quattro posti vicini? No! Perché cavolo dovevo prendere quattro posti vicini? Ho preso quattro posti migliori che ho trovato, uno qua, uno là. Ah! Uguale quando vai in biglietteria, chiedi due posti e ti danno due posti sul lato davanti alla colonna. Eh, ma non è qualcosa di meglio. Eh sì, ma non li ho vicini. Eh, beh, non darmi li vicini, che me ne frega! Qualcuno di voi sa rispondere a questa domanda? Perché la gente deve stare vicina quando va a teatro? Vi prego, rispondetemi.